Dalla prossima estate Pescara potrebbe essere meta di arrivi e partenze da e per la Croazia. Il collegamento con l'altra sponda dell'Adriatico potrebbe infatti tornare operativo dopo 5 anni di stop a causa degli annosi problemi di dragaggio che angustiano da troppo tempo ormai i fondali del capoluogo Adriatico. Adesso però spunta un nuovo progetto per ripristinare i collegamenti dal porto turistico Marina di Pescara, così come emerso dal vertice con la direzione marittima di Pescara che si è tenuto ieri alla presenza tra gli altri dei rappresentanti dell'autorità di sistema portuale, della camera di commercio, del presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospieri e dell'assessore alla mobilità del comune di Pescara Luigi Alboremascia che al nostro microfono ha detto Stiamo lavorando da mesi con la collaborazione fondamentale della direzione marittima, del direttore marittimo che ringrazio ma anche dell'autorità di sistema per poter individuare una soluzione che non è il nostro portocanale, non è la darsena commerciale e c'è una disponibilità da parte della camera di commercio e del Marina di Pescara e ringrazio i referenti per valutare un'ipotesi praticabile. Ci sono tante questioni da risolvere di carattere amministrativo, di carattere burocratico, forse quelle finanziarie che ci sono sono marginali rispetto a quelle invece burocratiche e amministrative che sono molto importanti e poi bisognerà individuare un vettore. Però si è fatto un lavoro prezioso nei mesi scorsi, non siamo assolutamente al primo giorno di lavoro ieri è stata una riunione importante con la presidenza del consiglio della regione nella persona del presidente Sospieri presente e la collaborazione della regione diventa assolutamente fondamentale. L'ipotesi al vaglio quali sono? Quale vettore dovrebbe consentire questo collegamento tra le due sponde? Noi dobbiamo raggiungere un obiettivo di un fondale di tre metri e mezzo, questo consente quindi ad una imbarcazione che sia adatta al trasporto passeggeri, per il momento sarebbe preclusa la possibilità di trasportare automezzi ma se si raggiunge l'obiettivo almeno di portare dall'altra parte dell'Adriatico e viceversa 350-400 passeggeri questo è già un grande segnale di rinascita del collegamento con l'altra sponda dell'Adriatico che è bloccato da anni. Su questa ipotesi lavoriamo che non è un'ipotesi minima, non è un'ipotesi minimalista ma è un'ipotesi pratica, raggiungibile, sulla quale ci stiamo impegnando moltissimo.